Bentornati e ritrovati su Hermes Channel Web TV. In un altro sai che? Oggi stiamo all'aria fresca, si parla di sport. Quindi Valeria, di cosa è questa curiosità di oggi? Curiosità curiosissima e parliamo oggi di paramotore. Cosa vi fa pensare questo? Che cosa vi immaginate? Paramotore, quindi potrebbe essere un qualche cosa inerente alla paracadute con il motore, quindi è un paramotore. In questo caso fortunatamente ci siamo incontrati con il presidente e istruttore Lino Chiarella dell'associazione Aereoclub Flyway di Castellana Grotte, l'unica certificata in Puglia dall'Aereoclub Italia, dove ci spiegherà che cosa ci può spiegare mai. Insomma ci farà vedere anche il suo volo, spiegherà un po' come funziona l'associazione e tutto quanto, che comunque è uno sport, quindi si può imparare di farlo. Eh già, la domanda principale è, è pericoloso, però la cosa principale è, vediamoci il video così possiamo toglierci tutte le curiosità. Però, prima di vedere il video, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e cliccate mi piace su tutti i video che vi sono piaciuti. Bene, e allora ci possiamo vedere e gustare questo video. Ciao a tutti! Oggi siamo a Save Lettri, presso Lido Ottagono, con Lino Chiarella, presidente dell'associazione Club Flyway, unica scuola certificata in Puglia da Aereoclub Italia. Lino Chiarella, anche istruttore e direttore della scuola di parapendio e paramotore. Oggi parliamo di paramotori a Saiche. Ciao Lino! Ciao, buongiorno a tutti! Lino, come nasce la tua associazione? La mia associazione nasce dall'esigenza, dopo aver imparato questa bellissima attività, sentivo l'esigenza di trasferire queste sensazioni anche ad altri, no? E quindi poi è stato un percorso quasi automatico. Dopo aver preso l'attestato di volo per volare da solo, ho pensato che si poteva, diciamo, divulgare questa attività e mi sono prodigato per cercare di diventare istruttore. E quindi fatto questo, diventato istruttore, ho cominciato questa avventura dei corsi di parapendio e paramotore. Quindi l'Aeroclub Flyway è diventata una scuola di importanza fondamentale per il sud, perché è una delle uniche che c'è. Che cosa è il paramotore? Allora, il paramotore praticamente è un'ala, questa che vedete giù, che è quella, la stessa che si usa per il parapendio. La differenza tra parapendio e paramotore è che col parapendio si vola senza il motore, mentre con il paramotore si usa la stessa ala del parapendio con questo mezzo che vedete qui, che è praticamente un motore che si mette in spalla, tipo uno zaino, e grazie a questo motore di piccola cilindrata che si riesce a decollare anche da un piano, perché col parapendio ovviamente non si può fare questo. Col parapendio abbiamo bisogno di un pendio, lo dice già la parola, mentre col paramotore, usando la stessa vela, riusciamo a decollare anche da un piano, quindi diventa un piccolo aereo. Lino, come ci si può avvicinare a questo sport? Allora, la scuola è a Castellanagrotte, ci si può avvicinare facendo dei voli in tandem, quindi in massima tranquillità, perché si sta seduti insieme al pilota, all'istruttore, quindi si fanno dei voli di avvicinamento così, e poi se uno è interessato può iniziare l'iter, diciamo, didattico per poter imparare ad essere autonomo, ecco, volare in autonomia. Grazie, ma è pericoloso? Senti, questa è una domanda che mi fanno sempre, tutto nella vita può essere pericoloso, anche andare in bici o andare in macchina, la cosa più importante per tutte le attività è quella di farlo in determinate situazioni, cioè quando per esempio il parapendio e il paramotore sono attività che si fanno sempre quando le condizioni sono ottimali, quindi se il meteo non è buono, se il vento è forte o se c'è temporale, ovviamente queste attività non si possono fare, se si seguono queste regole attentamente non c'è nessunissimo rischio, o quantomeno i rischi si abbassano notevolmente. Grazie Lino, e adesso ci fai vedere un volo? Come no, sono fiero di farvelo vedere, ok. Grazie, grazie. 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 Lino, grazie mille, è stato bellissimo. Bellissimo, anche per me, grazie, farvi vedere almeno nel mio piccolo quello che si può fare con un attrezzo del genere, è stato bello pure per me. Grazie mille, complimenti e in bocca al lupo per tutto. Sai che può interessare o coinvolgere anche te? Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.